Un saluto per tutti gli amici di Marche Infinite, perché le Marche qualcuno pensa che siano finite ma in realtà quando uno comincia a guardare verso le colline e non sa che cosa c'è oltre, quello che deve sapere è che oltre le colline delle Marche ci sono altre Marche in attesa di altre colline.